L'impianto di GPL installato a poca distanza da un condominio è per il momento in esercizio provvisorio concesso alla Regione Campania e insiste a una distanza prevista per legge godendo così almeno temporaneamente di tutte le autorizzazioni, compresa quella dei vigi del fuoco. Interviene così il sindaco di Nocera Superiore Giovanni Cuofano che sulla denuncia dei residenti preoccupati non poco per la presenza di questo impianto di GPL vicino alle abitazioni e accanto a un parcheggio autovettura prende posizione. Il primo cittadino ha voluto replicare rassicurando i suoi concittadini. È giustificata la preoccupazione e il disagio, l'ansia che dei cittadini possono avere nel momento in cui c'è una pompa di benzina e con un impianto GPL che viene installato in prossimità delle loro abitazioni. Però da qui poi dobbiamo entrare nel merito della questione e nel merito della questione va premesso che i termini della sicurezza pubblica la legge non li assegna al sindaco, quantomeno se non è paventata un'effettiva perdita di GPL o quanto possa effettivamente procurare una preoccupazione per la sicurezza pubblica, mentre dà questa competenza ad altri soggetti. Quindi in questo caso ci sono competenze concorrenti della Regione Campania, della provincia, dei vigili del fuoco, vigili del fuoco che rispetto alla prioritaria autorizzazione hanno dato un parere preventivo favorevole. In ogni caso noi non ci siamo fermati a quello che formalmente viene indicato ma abbiamo chiesto ai nostri uffici di fare ulteriori verifiche. Tant'è vero che il nostro ufficio ha disposto in settimana scorsa, in inizio settimana, prima che i cittadini venissero anche da voi per questo reclamo, ha disposto una sospensione dei lavori perché mancava un parere paesaggistico all'interno dell'autorizzazione. Ci sono delle verifiche in corso che sono di carattere amministrativo, di carattere urbanistico e commerciale che nulla hanno a che vedere con la sicurezza pubblica. La sicurezza pubblica in questo momento devono garantirla ai vigili del fuoco. Noi e l'ufficio in questione ha sollecitato i vigili del fuoco a verificare anche la scia che presso di loro è stata depositata di modo che possiamo eventualmente determinarci in maniera diversa. Ad oggi abbiamo questa situazione, un esercizio provvisorio dell'impianto dato dalla Regione. In ogni caso, ripeto, noi non ci fermeremo a questo ma sicuramente non accettiamo lezioni in termini di sicurezza. Il nostro territorio è stato spesso in passato abbandonato, tant'è vero che abbiamo dovuto riscontrare nelle scuole l'assenza di caldaie a norme e i nostri bambini venivano tenute nelle scuole con caldaie degli anni 80-90. Noi abbiamo sostituito le caldaie. Stiamo provvedendo a Via Roma alla dismissione di una vecchia pompa di benzina con attività di bonifica delle cisterne e di riqualificazione della pavimentazione a Via Roma, che è una delle parti splendide del nostro territorio. Essendo, lo ripeto spesso, in uno Stato di diritto, noi dobbiamo anche attenerci alle perizie giurate che fanno i tecnici, a quanto richiarano uffici pubblici che appartengono allo Stato italiano. Per cui ad oggi noi le nostre verifiche le faremo perché la priorità è la sicurezza dei nostri concittadini.